Il 17 aprile 2011, oltre 100 persone erano riunite in una sala del regno di Burgas per celebrare pacificamente la commemorazione della morte di Cristo. Tra i presenti c'erano donne, bambini e persone d'età avanzata. All'esterno si è riunito un gruppo di facinorosi di circa 60 uomini, i quali hanno cominciato a scagliare grosse pietre contro i testimoni che stavano all'ingresso. Poi hanno cercato di irrompere nella sala del regno, ma i fratelli lo hanno impedito. È stata chiamata subito la polizia, che però non è intervenuta tempestivamente. Alcuni testimoni sono stati feriti e cinque sono stati trasportati all'ospedale con l'ambulanza. Nonostante l'aggressione, la congregazione ha celebrato la commemorazione. L'episodio costituisce un fatto isolato se si tiene conto del rispetto di cui godono generalmente i testimoni di Geova in Bulgaria, e in definitiva ha fatto loro una buona pubblicità. Il corpo direttivo ha disposto che 13 filiali sottoponessero il caso all'attenzione delle ambasciate bulgare presenti nelle rispettive nazioni. Da allora il governo bulgaro ha condannato l'episodio e il pubblico ministero ha incriminato otto degli aggressori. . . . . . . . . . Grazie a tutti.